Callabonino è il sindaco di Vezza d'Alba, una giornata di festa con il tartufo ma ha incontrato anche la Liguria per il secondo anno quindi insomma i tartufi si sposano anche con i prodotti Liguri, sindaco. Certo, siamo contentissimi di questo incontro con la Liguria. La Liguria è il nostro primo vicino diciamo e noi biamontesi quando abbiamo una giornata di tempo andiamo in Liguria quindi avere qui ospite il governatore della Liguria per noi è un onore. speriamo che la prossima volta l'incontro magari si faccia su una nave, si faccia su una barca, magari sul mare però portare la Liguria qui nei nostri boschi che sono così diversi dai boschi Liguri perché sono boschi umidi, sono boschi dove possiamo raccogliere i tartufi quindi per noi avere la Liguria qui è un avvenimento unico che comunque ricorderemo e speriamo di rinnovare di nuovo questo appuntamento. Qui c'è la vera e propria cultura del bosco, del bosco da tartufo. avete fatto un museo, avete creato e curato questa tartufaia con, oserei dire, con amore. Sì, qui c'è proprio la cultura del bosco, è una cosa tavica perché i nostri contadini quando finivano di seminare, finivano di raccogliere gli ultimi frutti della terra per arrotondare, per sbarcare il lunario andavano per tartufi e raccoglievano tanti, tanti, tanti tartufi. Col passare del tempo il bosco è stato un pochino abbandonato però abbiamo capito che se vogliamo mantenere la produzione dei tartufi nostrana i tartufi, il tartufo bianco d'alba, bisogna curare il bosco e quindi ci sono tante amministrazioni, altri colleghi come me, che si sono impegnati. Noi siamo nel cuore del Roero, Vezza si trova nel cuore del Roero quindi siamo tra le rocche e il tanaro. È una terra finissima, abbiamo l'argilla che dà dei tartufi di un certo tipo, un po' più consistenti, abbiamo le sabbie astiane che portano un tartufo più chiaro e più bianco ancora e allora è un nostro impegno mantenere questi luoghi e cercare di proteggerli.